oh mamma mia che spettacolo ciao ragazzi, ciao a tutti quanti ok quindi questo è un video che voglio fare è un video che voglio fare perché il microfono è giusto vero? si sente bene? si sente bene? ok quindi è un video un po' diverso un video un po' diverso perché ultimamente sulla piattaforma youtube ci sono state un po' di cose che comunque non mi sono piaciute non perché parlano personalmente non parlano direttamente di me ma perché comunque non mi piace quando qualcuno parla male di qualcosa che non capisce o non sa quindi mi sono sentito preso in causa non direttamente ma indirettamente però essendo un cittadino americano e comunque essendo un cittadino californiano ho pensato che forse sarebbe stato interessante sentire un'opinione di un emigrato che vive comunque in California da dieci anni non da un anno o un anno e mezzo o due anni e comunque potesse esprimere un'opinione riguardo a questo bellissimo stato che si chiama California quindi purtroppo ho sentito in youtube ho sentito dire in youtube che la California è uno stato paragonato a un escremento e tutto non funziona o comunque è uno stato che è soltanto solamente bello per una vacanza o comunque uno stato che non merita una vita bene, io sono qui per comunque spezzare questa lancia contro la California perché vi voglio raccontare la mia esperienza californiana e voglio comunque raccontarvi e comunque voglio comunque istruirvi sulla California perché secondo me un anno e mezzo, due anni in California come vivere in California specialmente quando arrivi dall'Italia con 20-30 mila dollari non ti danno l'idea di cos'è la California quindi voglio raccontarvi un attimino due cose intanto vabbè California, io l'ho sempre detto è uno degli stati più brutali brutali che esista negli Stati Uniti cioè non è cara è super sovrappopolata quindi ci sono un sacco di persone che vivono in California traffico è incredibile intanto fa caldo ora sto scoprendo che fa caldo e quindi è difficile California è difficilissima non è uno stato semplice ma da dire che è uno stato semplice a comunque giudicarla uno degli stati più come uno scremento non mi sembra una cosa bella California vissuta da uno straniero comunque da un emigrato è una California magica nel primo mese in reale secondo mese dopo sei mesi comunque ti senti un dio perché comunque vive in California dopo un anno hai questa cosa oh la California bella però wow e comunque devo incominciare a guadagnare un po' di soldi e dopo un anno e mezzo due dici wow ehi forse devo incominciare a lavorare o comunque forse devo devo preoccuparmi un po' di più se voglio vivere qui perciò io quello che dico a questi personaggi che piace sblaterare dire parolacce ruttare in faccia ai followers o comunque susscritti gli iscritti che non è bello non è bello proprio non è bello proprio parlare così dell'America perché comunque la California è America ancora e lo sarà è forse uno dei stati che mantiene l'America e e e se gli altri stati comunque pagano meno tasse perché comunque la California non dico che mantiene però supporta tantissimo gli Stati Uniti d'America perciò è bello è bello parlare vantarsi fare queste cose senza sapere poi bene com'è la vita californiana quindi se una persona frustrata o fallita nella California reputa la California uno dei stati più brutti dell'America boom questo è un campanino d'allarme è un red flag che mi viene nel mio cervello dico ok ma forse hai forse ti sei posto comunque ti sei presentato comunque ti sei sì ti sei presentato in una maniera strana per la California forse la California non ti vuole o forse comunque non sei pronto per vivere in California perciò io dico da dieci anni che sono qua dieci anni che sono qua in California ho iniziato da zero proprio da zero e il discorso di mia ex moglie che era ricca la famiglia era ricca no mi sono mosso qua quando ero in fase di divorzio quindi ho iniziato da zero giusto appunto per dare un chiarimento e come ho detto tantissime volte ho vissuto su una barca per mesi senza soldi senza niente però non mi sono reso dopo un anno e mezzo un due anni quindi ho capito che questa era la mia terra questa era la mia opportunità e mi sono dato da fare ho fatto tre lavori non avevo nessun soldo che nessuno mi ha prestato non avevo dieci quindici venti trentamila dollari che nessuno mi aveva prestato e quindi piano piano mi sono mi sono creato ma la cosa importante cosa importante che qui questo è importante veramente la cosa importante è come mi sono adeguato alla California come mi sono nel senso come come ho accettato il discorso California come mi sono presentato alla California mi sono presentato in una maniera molto aperta molto oggettiva nel senso che ho assorbito tutto quello che era della California senza lamentarmi senza criticare e quindi da lì ho incominciato con il sorriso in faccia a trovare opportunità e le opportunità mi sono cadute quindi non penso che è lo stato della California che ti chieda o ti manda via ma sei tu che in California ti devi adattare o e lavorare in maniera diversa e accettare alcune specialmente nei primi anni accettare alcuni compromessi per poi arrivare comunque a un momento di successo quindi ci sono alcune cose che una persona frustrate che non vivono più in California e desidererebbero di vivere in California piace comunque danneggiare questo stato California come ho passato io i primi cinque anni è stata una cosa incredibile però non ho mai pensato di lasciare non ho pensato mai di andare da nessun'altra parte perché sapevo benissimo che prima o poi se qualcosa sarebbe successo ho fatto tre lavori lavoravo in un in un ristorante alla sera lavoravo guidavo il limousine durante il giorno e durante il weekend guidavo barche quindi mi sono adeguato a quello che era lo stile californiano sì non la guadagnavo tanto vivevo in centro downtown San Diego a quei tempi in un bedroom spendevo 1700 dollari però ho detto ok quello è quello sarà quello è quello che c'è adesso ma sicuramente se continuo in questa strada o per questa strada sicuramente qualcosa succederà e qualcosa arriverà e poi le opportunità sono arrivate mi sono sempre comprato bene non ho mai disprezzato la terra non ho mai offeso un americano non ho mai arrogantemente parlato contro e quindi questo mi è stato utile questo mi è stato utile gli americani gli americani hanno capito che persona che tipo di persona ero che comunque ho apprezzato il fatto di vivere su questo suolo ho apprezzato il fatto di adorare la mentalità americana di esposare la mentalità americana la mentalità americana e quindi forse queste sono le opportunità questa è stata la conseguenza di poi per poi che mi hanno portato quindi erano queste opportunità ho una moglie americana una moglie californiana e non mi piace sentire su youtube aspettate un altro questo me lo sono portato all'italia ragazzi perché amo l'italia comunque è una moglie californiana che è nata in california e vive in california ha sempre lavorato nella sua vita non ha mai ha una famiglia benestante la famiglia di nicole è abbastanza benestante ma non ho mai chiesto niente è andata via 18 anni di casa e ha cominciato la sua esperienza di vita lavora ora è una lavoratrice è una madre ora di due figli e continua a lavorare e quindi non è una persona che sta a casa a cazzeggiare o a persone che vive con i soldi della famiglia perciò questo messaggio è un video che volevo fare per chiarire un attimino alcuni discorsi alcune cose soprattutto per noi soprattutto vedi questa è una cosa incredibile da italiano io sono americano sono cittadino americano ma non ho mai perso la mia cittadinanza italiana e mi considero italiano perché sono italiano quindi io voglio vedere queste cose di queste persone che parlano in quella maniera su una piattaforma pubblica parolacce bestemmie ruti scorregge ragazzi ma dove siamo ma questa è la nostra questa è la nuova generazione di persone di youtube e poi ci lamenta perché non si fanno numeri su youtube è triste veramente triste ragazzi è veramente triste a volte dico ma perché sto facendo questa cosa perché voglio fare youtube perché perché alla fine a me piace mi diverte fare video editare queste cose qua ma per il contenuto in sé di questi altri personaggi mamma mia è triste è triste se devo pensare che un italiano mi rappresenti mi rappresenti l'america in questa maniera wow beh non è non è non è non è bello non è non è veramente una cosa carina cioè mi dà tristezza mi fa mi fa capire che comunque c'è tanta tristezza tanta invidia e tanta frustrazione nelle persone che altro niente questo era un messaggio così e infine voglio dire la California ragazzi la California è un paese è uno stato molto che ti dà molto se ti adegui è uno stato che ti dà tutto se se sei se ti comunque ti presenti in maniera giusta purtroppo queste persone dalla quale ho sentito cose assurde assurde ovviamente non hanno questa mentalità di vivere in California ma non soltanto vivere in California la California ora non vuole loro e quindi non mi fa specie il fatto che comunque persone così abbiano fallito in uno stato come la California e quindi sono persone che si porteranno dietro tristezza e frustrazione per il resto della vita indipendentemente da dove vivono comunque questo non è un messaggio provocatore per nessuno è un punto di vista e comunque da californiano americano e da californiano italiano anzi da italiano californiano mi sono sentito in causa e mi sono sentito portato in causa quindi mi sembrava giusto spiegare che la California non la puoi comunque non la puoi comunque imparare in un anno e mezzo o due anni non la puoi imparare un anno e mezzo due anni è semplicemente una vacanza se vuoi capire della California se vuoi imparare a California devi adeguare stare zitto non lamentarti per almeno tre o quattro anni e poi se hai fatto il lavoro giusto se hai fatto le cose giuste i risultati arrivano se no dopo otto anni o nove anni di lavoro duro se non hai ottenuto nulla forse magari questo non è posto per te quindi è meglio che magari cambi stato o provi opportunità in posti differenti è capibile capibilissimo e lo fare lo stesso lo farò anch'io ci sono ho amici americani che hanno lasciato la California dopo otto anni e americani e quindi e quindi ci sta ma un'esperienza di un anno un anno e mezzo non è nulla ragazzi non è nulla nulla in un anno e mezzo qui in Los Angeles è il tempo per organizzare per aprire un'attività come per esempio Joe lo conoscete vabbè Joe è mio fratellino Joe lui è stato attaccato per perché non lavori perché di qua di là ma ragazzi questa è Los Angeles Los Angeles è brutale nel senso che comunque lui ha lavorato lavorava dietro le quinte per aprire un'attività ha fatto ha fatto altri piccoli lavoretti che non ho mai detto non ho mai detto perché comunque non deve giustificare niente a nessuno e comunque la moglie lavora lui lavorava lavorichiava a destra e a sinistra ha fatto qualche cosa ha lavorato anche per me non me l'aveva mai detto ha lavorato anche per me ha fatto alcune cose per me con le barche non l'ha mai detto non l'ha mai detto neanche lui perché non ce ne frega perché non gliene fregava niente quindi un anno e mezzo un anno e mezzo due anni a volte richiede tempo per aprire un'attività ora ha aperto questa pizzeria con Luigi ed è fantastico fantastico quindi un anno e mezzo non è niente niente ok se vuoi vivere in California vieni a raccontare qualcosa dopo magari dieci anni e allora ti do retta ma per il resto non funziona ragazzi questo era un messaggino al volo una cosa un po' diversa che volevo fare però mi dispiace che l'italiano venga venga comunque venga comunque infangato da queste da queste purtroppo non realtà io sono sempre stato giudicato per la persona che non dice la verità o comunque che non dice le cose come stanno in California o comunque in America però non mi va che altre persone invece come si dice escalate comunque esaltano questa questa rabbia contro l'America io sono cittadino americano da poco da un anno amo amo questa terra ho una moglie americana mie figlie sono nati in America e amo l'Italia perché sono nato in Italia quindi io disprezzo e non giustifico le persone che parlano male dell'America e dell'Italia nella stessa maniera quindi tu che stai dietro shut your mouth ciao